Quanto mi sei mancato, ti amo. Ho conosciuto una persona. Eh? L'avvocato ti ha chiamata? Ho vinto io e deciso! Affidamento congiunto! No! Mio padre aveva ragione. Se non sei un uomo non conti niente. Non, 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 non entrate! E lasciatemi sola. Non può fiammare così nel mio studio. Che sarà mai? Cos'è quello? Niente panico perché tutto va bene. Benissimo. I suoi testicoli sono pieni. Vanno svuotati. Ho paura. Si dia da fare, forza! Pensi a un'immagine che la eccita. Davanti a lei c'è un bell'uomo steso su una pelle di animale. Allora? Niente. Niente. Mi fa schifo. D'accordo. E se ne dico una bella donna? Ah. E questa chi fa? La capriola, la ruota, la verticale, quello che le pare. La mamma è bella come una principessa. Venite, bambini, conto fino a tre! Gli uomini hanno più muscoli ma non sono più forti. Si è innamorata ma è fantastico di una donna o di un uomo. E' un uomo, è ovvio! Glielo dica anche lei. Lo accetterà se l'ama veramente. Al suo posto non ne sarei così sicura. Qualcosa di troppo. Arrivo, arrivo! E' un uomo! E' un uomo! Grazie a tutti.